meglio morta che su OnlyFans io ho fatto la modella per tanti anni e ho deciso che quel mondo non mi piaceva più proprio nel momento in cui le mie colleghe viravano verso OnlyFans nulla in contrario per tutte le mie colleghe che scelgono questa strada capisco che sia un ottimo modo di remunerare per carità, scelte personali io vengo da un percorso inverso non ho nessuna intenzione di fare passi indietro voglio essere conosciuta per quello che faccio dentro la gabbia e per nessun altro motivo